Allora, abbiamo anche Massimo Cursio, vieni Massimo, raggiungimi, raggiungimi pure, Big Stone Studio, vero? Buongiorno a tutti quanti, di questo studio, e oggi presentiamo appunto l'artista Marco Donnarumma con un suo nuovo lavoro che si chiama MD, che sta appunto abbiamo ultimato questa registrazione in cui appunto volevo... questo è il cd inoltre abbiamo terminato come Big Stone Studio New Generation Music dove appunto Marco entra dentro con il brano, questo proprio che abbiamo visto proiettato niente, adesso subito abbiamo fatto Sanremo, insomma stiamo procedendo abbastanza bene c'è anche Mario Ciardo che ha fatto parte della compilation New Generation e quindi invito anche un po' gli artisti a contattare la Big Stone Studio per eventuali progetti e produzioni.